in questo tutorial andremo ad apprendere come attivare il servizio di raggiungibilità web access per rtu evo 1t il servizio web access di sinapsi permette a tutti gli utenti di raggiungere l'interfaccia web di rtu evo 1t in maniera semplice e veloce per poterlo attivare è necessario registrarsi al portale my sinapsi alimentare il dispositivo rtu evo 1t e collegarlo ad internet verificare lo stato di connessione internet attraverso il display andando su infosistema stato internet nel campo dovrà essere riportato un indirizzo internet anziché error sul fianco del dispositivo è riportata un'etichetta con l'indicazione web access e seguire lo scan del qr code con un comune smartphone lo scan conduce alla pagina di attivazione del servizio web access a questo punto l'utente in caso di prima attivazione del servizio dovrà registrarsi seguendo le indicazioni a fronte dell'avvenuta registrazione le credenziali usate gli consentiranno di abilitare il servizio stesso se già si dispone di un my sinapsi account sarà sufficiente inserire le credenziali e cliccare su avanti una volta attivato il servizio di raggiungibilità web access per una rtu evo 1t sarà possibile raggiungere la sua interfaccia web via internet all'indirizzo https 2 punti slash slash ev numero di serie del dispositivo punto net punto sghiot punto com punto sghiot punto sghiot punto com